Gentili telespettatori, buona giornata. Dopo il discorso di Draghi al Senato, la Meloni conferma il no alla fiducia del Governo. Dice un intervento di generica visione politica e dice dopo aver ascoltato da Draghi un intervento di generica visione politica, che evita però di calarsi nelle scelte concrete da effettuare, confermiamo il nostro no a questo Governo. Non si può chiedere agli italiani un supplemento di fiducia al buio nei confronti del nuovo esecutivo. Questo è il primo commento di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dopo il discorso programmatico di Mario Draghi in Senato. Però aggiunge un qualcos'altro di importante, dice entreremo nel merito delle singole questioni evidenziate da Draghi durante il dibattito in aula e valuteremo i singoli provvedimenti che saranno votati, senza cessioni di sovranità che non ci appartengono, conclude la leader di Fratelli d'Italia. Quando parla di cessioni di sovranità si riferisce proprio al discorso di Draghi quando dice che l'Italia in Europa, come tutti gli altri stati dove non ci arriva, dove non ci arriva per qualche motivo, allora cede sovranità all'Europa, così l'Europa può aiutare il paese. Ecco, e Giorgia Meloni vuole specificare che le cessioni di sovranità non ci appartengono. Anch'io sono della stessa idea, non ci deve essere nessun tipo di cessione di responsabilità. Questo è quello che credo io. Intanto Giorgia Meloni, diciamo così, si asfalta, con questo termine così, Nicola Zingaretti, dicendogli adesso chiede i soldi, un uomo senza vergogna, dice, doppio sfregio agli italiani. A che cosa si riferisce? Dice che Nicola Zingaretti probabilmente non si è reso ancora conto che finora nella maggioranza di governo c'era lui. Quindi il segretario del PD infatti ha scritto in una nota, riferendosi al prolungamento della chiusura degli impianti, dice, il governo si adoperi subito per indennizi e ristori a chi è stato colpito. È una frase che ha suscitato diverse reazioni, anche ilarità, ironia sui social. Dice, Zingaretti smemorato si appella a Zingaretti, dice Giorgia Meloni su Twitter. Qualcuno gli ricorda che lui e il PD sono al governo fin dall'inizio della pandemia e poi sottolinea chi vive e lavora in montagna non merita di essere preso in giro. In effetti le parole di Zingaretti sappiamo già che sono aria fritta. Aria fritta perché in quelle parole che lui dice non c'è nulla o perlomeno c'è tutto e niente. Sono parole che possono far contenti chiunque, ognuno ci può trovare quello che vuole. Mi ha dato ragione, la pensa come me, ma questo lo possono dire tutti perché in quell'aria fritta c'è dentro un disegno, c'è la capacità di dire tutto e niente per far felice tutti. Cosa aveva scritto Nicola Zingaretti? Il danno per l'economia dello sci e della montagna è davvero immenso. Il governo subito si adoperi per indennizi e ristori a chi è stato colpito, questa è la priorità assoluta, diceva con la sua voce che assomiglia un po' a quella di Giovanotti. Beh, una critica a se stesso perché lui dall'inizio della pandemia è lì al governo, c'era lui, c'era il Partito Democratico e dopo un anno e mezzo di Conte II, più adesso l'inizio del governo Draghi dove c'è sempre lui e se la prende con se stesso. Quindi Zingaretti contro Zingaretti, come Kramer contro Kramer. Ecco, critica a se stesso. Diciamo che durante il Conte Bis nessuno di loro è riuscito a fare davvero qualcosa per aiutare economicamente chi non ha più avuto incassi per le chiusure previste dall'emergenza sanitaria. Però sono stati in grado di regalare dei bonus monopattino, eh? La gente disoccupata, la gente che perdeva fatturato con le proprie aziende, eccetera, eccetera. E questo è il fatto. Però sono stati capaci di regalare i bonus monopattini e poi anche di fare i bonus vacanze e i corsi per le casalinghe. Ce ne sono state veramente quelle genialate, veramente incredibili. Ecco. E così Giorgio Ameloni dice solo pochi giorni fa il governo Conte Speranza e il CTS avevano autorizzato le riaperture delle piste di sci dal 15 febbraio nelle regioni in zona gialla. A 24 ore dalla ripartenza lo stesso CTS dice che non ci sono più le condizioni. Il governo Draghi Speranza decide un altro di invio. E' la mazzata finale per tantissimi operatori che non hanno lavorato per mesi subendo perdite enormi e che per organizzare la riapertura hanno sostenuto spese, assunto personale, venduto, schipasse. Accettato prenotazioni alberghiere. Ecco. Quando verranno ristorate queste imprese? Quanti soldi verranno stanziati per pagare i danni di questa scelta? Chi dirà ai lavoratori appena assunti che da domani dovranno rimanere a casa? Ma soprattutto come lavorate? Si chiede alla Meloni. E' scandalosa la superficialità con la quale si prendono in giro i cittadini e imprese procedendo a tentoni trattando gli italiani come sudditi. Basta, dice appunto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Quindi diciamo che l'opposizione di Giorgia Meloni è già cominciata da subito, non da oggi, ma già dalle voci della nascita di questo governo Draghi, da quando si è capito che Fratelli d'Italia era l'unico partito che rimaneva all'opposizione. Vedremo questo governo Draghi quanto durerà. Durerà due mesi, sei mesi, durerà un anno per portarlo al Quirinale, poi forse arriverà qualcun altro che non sarà gradito, allora i partiti usciranno e faranno cadere il governo per andare alle elezioni. Perché da qui all'elezione del Presidente della Repubblica i vaccini potrebbero essere già ormai ben avviati nella loro distribuzione e l'economia, tutto quello che si è potuto fare probabilmente in un anno sarà fatto e quindi dopo un anno si potrebbe anche andare alle elezioni. L'economia avviata, i vaccini avviati e Draghi che se ne va al Quirinale, quindi non c'è più la necessità di un governo di salvezza nazionale, ma ci sarebbe la necessità di andare alle elezioni e far governare chi vince le elezioni, chi ha il mandato popolare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato ancora e se volete ci troviamo ancora qui tra una ventina di minuti sullo stesso canale per un altro video. Grazie nuovamente e arrivederci a tutti. Buona giornata. Grazie a tutti.